Sì, ringrazio l'onorevole Giannone, l'onorevole Colucci e tutti coloro che hanno sottoscritto questa interrogazione che mi consente di chiarire la situazione epidemiologica nel nostro Paese anche solo per un istante. Noi abbiamo piegato la curva grazie a atteggiamenti straordinariamente positivi dei nostri concittadini e grazie a misure molto dure e rigorose attuate sia dal Governo nazionale che dai governi regionali. Siamo in una fase migliore ma guai a pensare che la battaglia sia stata vinta. La fase mondiale dell'avanzamento del virus è molto complicata e anche la stessa Europa è ben lungi dall'essere fuori dalla dinamica epidemica più piena. Basti guardare per un istante a ciò che sta avvenendo in questi giorni nei Balcani o anche a una recrudescenza del virus in alcuni importantissimi Paesi europei, quali in modo particolarmente la Spagna, la Francia e la Germania. Dal 4 di maggio abbiamo avviato un graduale e prudente percorso di riapertura. Chiaramente sono tre le regole fondamentali che ci hanno accompagnato in questi mesi e che dovranno ancora accompagnarci nelle prossime settimane. Le tre regole sono l'utilizzo della mascherina, il distanziamento di almeno un metro e il lavaggio frequente delle mani. L'ordinanza di sabato scorso che io ho voluto firmare è un'ordinanza non legata solo ad una fattispecie, non legata solo alla vicenda dei treni, ma più in generale al rispetto di queste tre regole essenziali nel nostro Paese. Io penso che questa ordinanza sia ancora essenziale e i termini di questa ordinanza verranno chiaramente confermati nei prossimi DPCM che andremo ad approvare. Ed è chiaro che c'è stata una ricaduta anche sulla vicenda dei treni a lunga percorrenza con evidenti conseguenze che sono state descritte. Da parte mia voglio dire con chiarezza una cosa. È evidente che ogni scelta restrittiva, anche in un percorso di riapertura come quello che stiamo facendo, comporta dei costi, comporta dei sacrifici e comporta, ahimè, anche dei disagi. Noi questo non possiamo negarlo, ma dobbiamo assolutamente rispettare questi tre principi fondamentali, perché solo il rispetto di queste tre regole essenziali ci può consentire di non vanificare il lavoro straordinario che i nostri concittadini hanno svolto negli ultimi mesi e che ci ha consentito di piegare la curva del contagio. Grazie. Grazie a lei, Ministro. Speranza a facoltà di replicare. Il deputato Alessandro Colucci. Grazie Presidente. Signor Ministro, noi conosciamo la sensibilità e l'attenzione con cui svolge il suo ruolo e per questo ho tutto il nostro rispetto. Però non siamo assolutamente soddisfatti della risposta alla nostra interpellanza. Innanzitutto ci aspettavamo delle scuse per la confusione creata ripristinando all'improvviso il distanziamento sociale. Probabilmente non c'è stato un dialogo all'interno del Governo fra lei e il Ministro De Micheli. Non vi siete capiti, non vi siete parlati, non ne sappiamo assolutamente le ragioni. Però crediamo che quello che è accaduto ha determinato un disagio incredibile alla vita di migliaia di passeggeri. Mi chiedo, ma sapete cosa vuol dire programmare, organizzare un viaggio? Vi rendete conto cosa vuol dire prenotare, pagare e caparre? Chi e quando si occuperà dei risarcimenti degli italiani che hanno programmato le loro partenze anche in ragione di un'iniziativa del Governo, come ad esempio il bonus vacanze. Con il bonus vacanze si invitano i cittadini ad andare in vacanza e con alcuni provvedimenti all'improvviso ad alcuni di loro si impedisce di partire. Questo Governo crea delle profonde incertezze. Non si può azzerare il distanziamento in aereo e ripristinarlo in treno. I cittadini sono confusi, sono disorientati. Io comprendo le sue valutazioni sulla necessità di rispettare delle regole, ma proprio attraverso il rispetto di quelle regole noi diciamo basta al prolungamento dello stato di emergenza non giustificato da dati, ma utile alla sopravvivenza del Governo. Basta con il terrore, con la paura, fate tornare le persone a vivere, ovviamente con le regole che lei ha ricordato, che si possano avere regole certe in tutti gli ambiti e in tutte le attività quotidiane delle persone, le mascherine, le regole igieniche. Fate tornare la gente soprattutto a lavorare. Le nostre città sono vuote, sono deserte. E concludo, Presidente, io credo che non vogliamo più che si muoia di Covid, ma non vogliamo neanche che si muoia di fame. La ringrazio. Passiamo all'interrogazione numero 3, 17 e 17 dei deputati De Filippo e altri, concernente iniziative volte ad assicurare univocità e omogeneità di applicazione sul territorio nazionale delle disposizioni in materia di tutela della salute nei trasporti pubblici. La deputata Lisa Noia ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. A lei la parola, deputata Noia. Grazie, Presidente. Ministro, i due operatori dell'alta velocità hanno annunciato che dal 31 luglio avrebbero ripristinato la capienza al 100% dei loro convogli sulla base della deroga prevista dal DPCM del 14 luglio. Il Ministro del Terro dei Trasporti ha ritenuto che questa decisione derivasse da un'interpretazione scorretta del DPCM, ma in ogni caso è noto che è stata emessa un'ordinanza a parte del suo Ministero che di fatto ha ripristinato la regola del distanziamento fisico. Ne sono seguite grossi disagi per gli utenti, con oltre 8 mila cancellazioni di viaggi già prenotati. Quattro regioni, Lombardia, Liguria, Piemonte e Friuli, hanno annunciato che disattenderanno a quanto stabilito dall'ordinanza e peraltro i trasporti locali già da tempo non applicano più in molte regioni la regola del distanziamento fisico. Noi le chiediamo quindi quali siano le iniziative che intende prendere per assicurare un'omogenea applicazione delle misure di sicurezza su tutti i trasporti pubblici e superare questa discrepanza di trattamento. E quali siano i motivi del disagio che si è venuto a creare per gli utenti? La ringrazio. Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha facoltà di rispondere. Prego, Ministro. Sì, ringrazio l'onorevole Noia, l'onorevole De Filippo. Voglio ricordare che siamo in questo momento tra i Paesi europei che meglio sono riusciti a contenere il contagio. Nei giorni scorsi l'SIDC, che è il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo della Malattia, ha indicato il tasso di incidenza del virus su 100.000 abitanti. L'Italia a 5,7, la Germania a 8,4, il Regno Unito a 12,6, la Francia a 19, la Croazia al 25,3, la Spagna al 53,6 e la Romania al 75,1. L'Italia si trova dentro questa graduatoria ad essere il Paese meglio collocato. Io insisto, non dobbiamo vanificare il lavoro impressionante fatto negli ultimi mesi e quindi le regole essenziali, quelle tre a cui ho più volte fatto riferimento, tra cui c'è anche il distanziamento di un metro e l'utilizzo della mascherina, devono necessariamente essere rispettate in tutti i luoghi al chiuso. È evidente che ci possono essere eccezioni nel caso in cui il Comitato Tecnico Scientifico riconosca dei protocolli di sicurezza esattamente come è avvenuto per esempio per le compagnie aeree, dove c'è una modalità di ricambio dell'aria che consente un livello di sicurezza anche senza gli evidenti limiti di distanziamento. Io penso che dovremmo continuare ad insistere su questa regola e dovremmo farlo insieme alle regioni. In queste ore c'è un confronto in corso, come è sempre stato in questi mesi. Da parte mia rivendico che uno dei punti di forza nella gestione di questo virus e nel contenimento del contagio sia stato sempre un rapporto e una relazione continua con le regioni. Noi lavoreremo esattamente in questa direzione. Le istituzioni repubblicane finora hanno retto, il Servizio Sanitario Nazionale ha retto. Il nostro obiettivo è continuare su questa battaglia perché come ho avuto modo di dire più volte siamo fuori dalla tempesta, siamo fuori dai giorni più difficili ma la battaglia non è ancora vinta. È la mia opinione che un dialogo positivo, costruttivo, costante, continuo tra governo regionale e governi territoriali sia indispensabile per vincere questa sfida. Grazie. Grazie.